Let's go! Bentornati, ovetti, su Yoshi's New Island! Con le nostre 163 vite, riusciremo mai a completare metà del mondo 4 oggi? La risposta è sì. Non faccio così schifo a giocare a Yoshi's New Island. Abbiamo qui delle bolle di sapone. Le abbiamo in realtà già viste durante la battaglia boss dello scorso episodio contro il granchio, però erano un attacco di un boss, quindi non meccanica nuova. Adesso, invece, possiamo parlarne. Le bolle di sapone dovete scoppiarle per poi mangiare lo Shy Guy contenuto al loro interno. Inoltre, se provate a saltare, anzi, se provate a non saltare sulle bolle, salterete fermi! Dammi quella moneta rossa, ok? Automaticamente. Oh no! Abbiamo perso la margherita barra fiore! Come faremo mai a prenderla? Aspettando il secondo giro dei palloncini. Già, i palloncini sono fortunatamente bravi e vi aiuteranno. Qua sotto, intanto, abbiamo la porta rosa. Anche qui è possibile entrarci più volte se fallite. Il punto è che fallendo in questa porta, cioè, dovete solo evitare dei proiettili build. L'ho detto, eh! L'ho assolutamente detto! Quindi sicuramente adesso mi colpiranno. Allora, fermati. No! Fammi... Un secondo. Fammi prendere questa moneta rossa, ok? E no! Che vi stavo dicendo? Evitate di stare fermi sul palloncino per troppo tempo e continuate a saltellare. Altrimenti sarete molto lenti. E voi non volete metterci cento anni a finire questo livello, vero? Io sicuramente non voglio. Come ho fatto a mancarlo? Dammi... Stelline? Altre stelline! Vi ricordo, se avete già 20 stelline, basta andare avanti nel livello per trovare il checkpoint. Non ho bisogno di tornare giù. Ho preso tutte le monete rosse. Palloncini! Grazie mille! Ok, ehm... Ora però... Grazie mille per niente! Ok, ehm... Voglio provarci... Ok, poteva essere una... No! Una moneta rossa, ma non lo è stato. Vieni qui. Ehm... Palloncini? Grazie mille! La sotto c'è una vita extra, però... Non serve prenderla. Ripeto, ne abbiamo 163. Anzi, ora anche di più. Quindi sto sciallo. Checkpoint! Ok, l'ho già fatta più volte questa canzoncina. Insomma, intanto non sto premendo il pulsante A, mentre rimbalzo. Per fare il salto fluttuante, sì, ma non per rimbalzare. Credo che fosse un checkpoint di Crash Bandicoot per Game Boy Advance. E sto parlando di Nitro Kart. Ehm... Ehm... Però... Pazienza. Non c'era qui qualcosa? No? Ok. Allora vuol dire che è un po' più avanti. Ehm... 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 Provare a... Ehm... L'ho mancato? A prendere questo. È un fiore? No! Sono solo monete, ma sono monete rosse. Ehm... Ehm... Un attimo. No, non lo sono. Ok, quindi è completamente inutile. Ehm... Mi chiedo se ci sia qualcosa... Esatto. Visto che la cosa era speculare. Ehm... Lancia verso la... Ehm... L'alto. Ok? E questo è un fiore. Perfetto. Ne abbiamo già un bel po'. Ah... Un attimo che ho ripreso un po' di voce. Ed ecco a che serviva la chiave. Un secondo. Magari c'è una nuvola invisibile per terra. No, non c'è. Bene. Ehm... Credo che la differenza tra la porta sopra e quella sotto sia che quella sotto vi porta sotto di noi. Esatto. Impedendovi di prendere due fiori. Ah! 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 Tre vite extra! E adesso abbiamo finito. Perché devo solo andare alla fine del livello. Quindi dammi questo fiore. Abbiamo già preso quell'altro fiore. Salta! Vola! E dammi lo Shy Guy per avere uova extra per il prossimo livello. E... Stelline? Giusto? Sì. Completamente inutili. E... Rallenta. Vai! Dovrei aver fatto... Dovrei aver preso... Le medagliette. Ok. Perché le chiamo medagliette? Sono medaglie. Sono grandi quanto Yoshi. Quindi non dovrei chiamarle medagliette. Però ce l'ho fatta. Passiamo la torcia a Claudi. A quanto pare questo è il nome di Yoshi Rosa. E vediamo che succede. Non è una novità? Andremo al prossimo livello. Ecco che succede. Andiamo nel sottosuolo dei marghi bruchi. Yoshi Rosa. Abbiamo qui dei marghi bruchi. Mangiate prima i segmenti e poi la testa. A quanto pare Yoshi può mangiare i marghi bruchi anche se hanno le spine. E... Questo nemico qua. L'abbiamo già incontrato nel livello 1S. Dove l'abbiamo stordito con delle uova. Ma si possono stordire anche con uno schianto a terra. Oh! Povero cactus! Ok. Abbiamo rubato suo... Spero non fosse un suo parente, insomma. Qua abbiamo delle stelline, ovviamente. Ma non è finita qui. Infatti... Là... Esatto. In questo blocco di roccia. Che si può rompere solamente con le uova. C'è un fiore. Non mancatelo. Intanto tu vai. Resta stordito. Mangiamo tutto il marghi bruchi. Ogni segmento vi dà un uovo. Quindi sono tante uova alla fine. Allora. Fatti mangiare. Ok. Perfetto. Sarà triste ma per poco. Se non sbaglio dopo un po' respawna il secondo cactus. Però non è il momento di pensare a quello. Perché devo fare un flutter jump! Per non mancare le monete rosse. Ok. Dovrei averle prese tutte. Lassopra... C'è l'accesso alla porta rosa. Che ci darà cose extra. Questa è la porta della stella? O è un'altra cosa? Mi sa che... C'è la stella. Bene! Al momento giusto però... Devo premere il pulsante di salto. Esatto. Basta fare un salto. Non serve neanche cambiare direzione. del D-pad Nintendo. Basta premere il pulsante A per cambiare. Ho preso all'ultimo millesimo di secondo l'ultima moneta rossa. L'avete visto? Ok. Non so come ho fatto. Aggiungerei a prenderla all'ultimo secondo. Avrei dovuto premere prima il cambio pista insomma. Però va bene. L'ho presa. Ok. Si va giù per il tubo. Ho fatto due volte la stessa battuta in due video consecutivi. La cosa non va bene. Non importa. Check point. Fiore finto. Ok. Fiore finto. Altro marghi bruco. La zona è sospetta. Qua sopra? Esatto. Dammi stelline. Erano un... No. Era un fiore. Non una stellina. Questo nemico non so che cosa sia. Non so per niente il suo nome. Però... Non posso ingoiarlo. Quindi ha la stessa identica funzione di Ukiki. Ok. Fermati un secondo che devo mangiare tuo figlio per andare qua dentro. Ok. Alla fine ho detto quello che non volevo dire prima. Però sì abbiamo mangiato il figlio del cactus. Non ti azzardare a colpirmi. Perfetto. Voglio schiacciare questo. Abbiamo una nuvola invisibile qua sotto. Che c'era monete rosse suppongo. Sì. Una sola moneta rossa. No problem. Abbiamo già quasi in realtà finito il livello. Non ci manca così tanto. Vediamo. Allora intanto... No. Non sei rossa tu. Fatti mangiare. Fatti... Ok. Perfetto mangiare. Vediamo un po'. Se riesco a superare quest'altro cactus. Dai. Visto? Respauna. Respauna. Quindi non serve per forza... No. Ok. Non dobbiamo rendere un cactus triste oggi. Ehm... Ops. Aspetta. Ehm... È un po' rischioso ma non vorrei mancare monete rosse. Allora. Ultima zona extra. Credo. Salta Yoshi. Andiamo. Vai. Salta. Ancora. Nuovola da prendere al volo. Cos'è un fiore? Esatto. E con questo... Stelline. Per forza. Sì. Abbiamo finito. Sì. Abbiamo finito la zona. E non mancato le monete rosse. Ci sta. Potrei raccontarvi qualcosa. Ok. Mentre andiamo avanti. Perché... Non abbiamo tante cose da dire. In questo livello soprattutto. A parte i rimarchi bruchi. Parliamo del fatto che... L'anno prossimo uscirà un'altra volta Luigi's Mansion 2. Dico un'altra volta. Perché... Tecnicamente. Attenzione. Ok. Dovessi scegliere di portarlo. Sarebbe la... Oh mamma mia. Non ti azzardare. Sarebbe la terza volta che porto Luigi's Mansion 2 sul canale. L'ho portato all'uscita. L'ho portato come Let's Replay. Quindi... Se... È forse un po' troppo portare un Let's Play tre volte. Sceglierò poi se portarlo o no. O se portarlo in live o no. Intanto ditemi la vostra. Vorreste un terzo Let's Play di Luigi's Mansion 2? Perché non è che c'è tanta variazione. Cioè sempre Luigi's Mansion 2 è. Quindi... Boh. Qua intanto c'è un tulipano. In questo livello è strano. Ma... Dai. Ok. È strano. Però vi danno così tante opportunità di prendere delle stelline per non perdere il checkmark alla fine. E nel frattempo sì. Sono stato in silenzio apposta per le medagliette. Le medaglie. Non medagliette. Vita extra. Non che serva tanto. Ma ti ringrazio lo stesso gioco. E passo la palla. O Baby Mario. A Johnny. Johnny è lo Yoshi azzurro. E se state pensando che sto leggendo il nome dei vari Yoshi. La risposta è sì. Sto leggendo il nome di tutti quanti gli Yoshi. Mentre andiamo avanti non me li ricorderò mai. Tutti quanti a memoria. Mondo 4-3. Percorso. Degli ascensori rotanti. A quanto pare queste piattaforme sono degli ascensori. Secondo il gioco. Lì abbiamo una moneta rossa. Quindi qui abbiamo un'altra moneta rossa. Prendiamo tante monete. Rosse. E anche uova rosse. E la chiave per andare avanti è il cupa rosso. Sì lo so. Lo so. Inoltre rosso la sera. Bel tempo si spera. Le piante piragna sono rosse. L'ho già detto in passato. Nel frattempo che prendo questo. No. Ok. A me il rosso non piace come colore. Mi piace il verde. È molto ironico. Che mi piace il verde. E non mi piace il rosso. Perché ovviamente tutti quanti sanno che. Ai gatti piace fare jazz. No. Ho perso la stellina. Ok. Che blu e giallo fanno verde. E il colore opposto al verde. È il rosso. Quindi neanche a farlo apposta. Sì. Mi piace il verde. Non mi piace il rosso. Fine. Qui però abbiamo il connubio del rosso e del verde. Non so che cosa ho detto. Però entrando in questo tubo avremo niente qui a sinistra. Ma altri ascensori e tante monete. Ah. Mi chiedo se una di queste monete sia. Sì gente. In tutti questi gruppi di monete abbiamo almeno una moneta rossa. Quindi ce ne sono tre. Quattro. Cinque. Se ho contato bene. E ora sei. E lì abbiamo il fiore. Ho fatto brinha. Perché mi andava di fare brinha. Ok. Cupa volante. In realtà è un paracupa. Quando è un cupa volante. E abbiamo perso l'opportunità di prendere quello. Vediamo se magari qualche nemico respawna. Non credo proprio. Forse tornando nel tubo. Ma dovrebbero essere solamente delle stelline. Quindi. Sperando che siano solamente stelline. Cerchiamo il checkpoint. Così. Esatto. Compensiamo un po'. Come ho fatto a mancare. Ah ok. Era un cupa che è spawnato. Ok. Perfetto. Era un cupa che è spawnato. Ora lancio. E seguo il guscio un'altra volta. Stavolta il guscio verde. E lo fermo anche. Ho fatto però bene a fermarlo. In effetti. Goomba. I goomba sono immortali finché non li mangiate. O se non fate un salto schianto. Perché il guscio. È un puzzle. Cioè è legato a un puzzle. E adesso. Abbiamo fatto. Qui inoltre. Oh. Ok. Non sapevo ci fosse. Quella nuvola invisibile. Ma abbiamo un percorso di. Yoshi veicolo qua sotto. E così abbiamo recuperato. Perfetto. Le stelline. Anche se. Sopra di noi abbiamo appunto delle stelline. Quindi. Potevo anche non preoccuparmi. Vai. Ok. Quello lo prenderemo più tardi. Ti prego dimmi che la piattaforma. Non si muove la telecamera. C'è qua sotto. Perfetto. Yoshi vagoncino. Yoshi vagoncino azzurro. Console in verticale. Appunto. Sappiamo già come muovere. Yoshi vagoncino. Quindi. Aiutatemi. Ok. Va tutto bene. Non è. Ok. Stavo provando a dire. Non è difficile. Comandare Yoshi vagoncino. È sicuramente uno dei mezzi Yoshi. Dei Yoshi veicoli. Più facili da controllare. Anche perché era il primo Yoshi veicolo. Ok. Vai. Girati un po'. Abbiamo già. Quasi. Fatto. Tutto. Quanto. Questo. Livello. Ok. E. Potete volendo rientrare in questa scena. Per Yoshi vagoncino. Doveste voi mancare qualche moneta. A me non serve. Però. Però. Magari qualcuno. Ha perso una moneta. Rossa intendo. Tu non sei. Stelline. Vero. Non puoi essere stelline. Per sicurezza. Però. Ok. Ho lanciato l'uovo apposta. Magari. Cadeva qualcosa dall'alto. Sul. Sull'ascensore. Parlando di ascensore. Questo è un po' trollone. Come ascensore. Quindi. Ti prego. Dammi. Aspetta. Ok. Le monete. E già che ci stai. Dammi anche quello. Ok. Abbiamo tutti quanti i fiori. La pianta piragna. Dovrà morire. E adesso. Tipo timido. Per caso spawnano tipi timidi da questo. No. Ok. A quanto pare non spawnano tipi timidi da quel. Da quel tubo. Però qui abbiamo un Koopa. Che posso lanciare. Lì. Ho detto gli. Ok. Tanta roba. C'era uno Shagai verde da sotto. Non importa. Mi sa che qui abbiamo preso tutto quanto. Non ho bisogno di aprire queste nuvole volanti. Però tanto per mostrarvi che c'è dentro. Vita extra. Lassopra invece abbiamo. Appena ci riuscirò. Per favore. Dimmi che sono stelline. Ok. Non mi hanno colpito. Ed erano stelline. Ok. Quindi se vi fate colpire come persone poco intelligenti. Quali me. Da questi Shagai. Potete comunque recuperare le stelline. Ho per caso fatto bene. No. Ok. Va bene. Due volte ho preso le medaglie. La terza no. Passo la parola a Sunny. Always Sunny in Philadelphia. E non sto parlando del formaggio. Le chiavi di forte guaio. Mini boss time. Yoshi. Attenzione. A non combinare. Guai. Ok. Anche questo è un labirinto. Però è un po' diverso. Dal labirinto del porco spinoso. Fatto nel mondo 3. Lo capirete mentre andremo avanti. Qui intanto. Abbiamo tante uova. E. Un fiore che ho preso alla prima. Uova lanciata. Cosa strana. Perché di norma ci metto un bel po' a prendere cose. Tramite il rimbalzo. Qui. Abbiamo due porte. Lì abbiamo. Delle scintille. Dei soli. È una preview di quello che. Vedremo. Mentre andremo avanti. In questa porta destra appunto. Stiamo attenti. Cerchiamo. Cose invisibili. Quando non c'è luce. Sono abbastanza. Preoccupato. Perché. Potrei mancare oggetti o cose. Mi sa che. No. Non è là sopra. C'è un. Ok. C'è un fiore da qualche parte. In un cunicolo abbastanza stretto. Però. Credo che sia più avanti. Nel livello. Allora. Là. Torno là sopra. Quindi. No. Non devo andare là sopra. Qua si sale. Ma non c'è modo di scendere. Quindi. Vediamo se c'è qualche altra cosa qui a destra prima. Sì. C'è. Là si va avanti. Quindi. Mi sa che posso salire per di qua. E ci sono monete rosse qui. Bene. Occhio. Occhio a tutto. Occhio a quel soletto. Scintilla. Sole. Non mi ricordo il nome ufficiale. Ma. Che si ricorda tutti i nomi ufficiali. Dei nemici. Barra ostacoli di Mario. Non io. Ecco. Anche se. Diciamocelo. Anche io avrei pensato. Ah. Magari Poké Tonks. Si ricorda tutti quanti i nomi. Dei nemici di Mario. Beh. No. Non tutti. Mi ricordo molti. Nemici di Mario. Ma non questi. Ok. Dovrebbe essere da qualche parte qui. Il fiore dico. Vediamo un attimo se magari è qua sopra. No. Ma abbiamo delle monete rosse. Ok. Piano. Yoshi. Piano. C'è un sole che ci sta seguendo da dietro. Eccolo laggiù. Bene. Quindi. Perché sto rischiando così tanto? Solamente per controllare se magari c'è qualcosa qui o no. Aspetta. 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 Non so come ha fatto. Mi ha fatto la bronzatura in pratica. Vediamo. No. Non sembra esserci niente là sopra. Ok. Quindi posso scendere. Questo vuol dire che il fiore si trova qui a sinistra. Perché è l'ultimo posto dove potrebbe essere. Là non c'è niente. Esatto. Vediamo. Sì. Ok. Lo intravedo. Potrei lanciarci un nuovo. Però conviene andarci per la strada intesa dal gioco. È molto più facile seguire la strada intesa dal gioco. Perché questo è un gioco di Yoshi. Quindi. L'ho già detto. Non è un souls like. Inoltre qui abbiamo la chiave. L'ho preso? No. Ma adesso sì. Ok. Ci sono in realtà due chiavi da prendere. Una a destra e una a sinistra. Non importa quale prendiate per prima. Qua non c'è niente. Ok. Mi sarei aspettato delle stelline nascoste da qualche parte. A quanto pare no. Anche se a un livello mini boss. Non vi danno così tante stelline. Ora si passa alla parte di sinistra. Quella con le spine. Durante le transizioni delle porte. Dovrei respirare un po'. Lo so. Questa è una nuova meccanica. Abbiamo delle piattaforme spinate che girano. Tenetela bene in mente come meccanica. Perché ci servirà per il mini boss. Quindi. Si possono attivare sia saltando sia con le uova. E là sopra non c'è niente. Ok. Perfetto. Però dovevo controllare lo stesso. Monete rosse. No. Ci sta lo stesso. Ok. Cambiamo. Al volo stavolta. Quindi vai. Perfetto. Roba. Stelline. Perfetto. Dammi. Oh. Mamma mia. Come ho fatto. Ad evitare di perdere baby. Come ho fatto ad evitare di perdere baby. Mario. Disse Tonks. Mentre perdeva baby Mario. Comunque abbiamo una roccia tritatutto. Che sappiamo già. Può tritare la roba. E qui abbiamo due chiavi in totale. Ah. Ah. Due chiavi nascoste. Che non sono per niente nascoste. Con delle monete. Non rosse. Ok. Non ci serve adesso andare là. Dobbiamo prima andare qua sopra. Per non mancare. Il fiore di questa zona. Quindi. Posso fare brinha? Ah. Sì. Perfetto. C'è abbastanza spazio per fare un salto schianto. Quindi vai. Ancora un po'. Perfetto. Vediamo se riesco alla prima. Ehm. No. Così. No. Ehm. Così. Non so come ho fatto. Non ci riuscirò mai più a lanciare un guscio. Un guscio? Un uovo Yoshi. In quel modo. Al volo poi. E adesso vai. Ehm. Ehm. Ok. Fatto Yoshi. Vuoi distruggere tutte quante le spine. Perfetto. Non conviene saltare qua sotto. Abbiamo visto che ci sono appunto spine. E non voglio toccarle perché altrimenti povero Baby Mario. Allora. Ehm. Non c'era niente qui. Possiamo andare verso la porta chiusa chiave. Non manca molto per finire il livello. Dovremmo essere quasi a metà. Perché abbiamo tre fiori. Di norma. Se sapete già che. Ah. Abbiamo tre fiori su cinque. Vuol dire che siamo a metà livello. Sì. Di norma è giusto. Quindi vai. Abbiamo ventidue stelline poi. Oh mamma mia. Ehm. Un attimo. Ehm. Meglio. Fare così. Perfetto. Per colpire questi Shy Guy. Credo che si possano anche mangiare. Però. Non ne sono sicuro. Non voglio neanche provarci. Non voglio mangiare una. Com'è che si chiama? Una Morning Star? No. Aspetta. Le Morning Star sono. Attaccate a un bastoncino. Insomma. Queste sono delle. Chiamiamole fruste chiodate. Perché non so come si chiamano. Allora. Se magari qualcuno di voi è afferrato in armi medievali magari. Ora. No. Dai. Aspetta. Allora. Vai. Ora. Ci riuscirò. Devo colpirlo. Restando più al sicuro possibile. Ok. No. Così. Oh. A quanto pare rimbalzando va bene. Non mi lamento. Allora. Cos'altro abbiamo qui in questo tubo? Roba. Allora. Non abbiamo il massimo. Oh. Non abbiamo il massimo delle uova. Però. Esatto. Qui spawnano. Non uova. Stelline. Qui spawnano Shy Guy infiniti. Quindi volendo. Potrei provare a. A colpirli con un uovo rosso. Per avere. Altre belle cose. Un attimo solo che intanto prendo quella vita extra. Dammi lo Shy Guy. Diventa rosso. No. Voglio un uovo rosso. Che poi sono sicuro al 100%. Che in realtà ci sia. Anche. Eccolo qua. L'uovo rosso. Perfetto. Ci sia anche un'altra nuvola. Che ci dia. Stelline più avanti. Però non importa. Shy Guy. Eccoti qua. Stelline raggiunta. Raggiunta? Ottenuta Tonks. Ottenuta. Adesso. Abbiamo tre uova. Ne vorrei un minimo di quattro. Sì. Ok. Dovrei stare a posto adesso. Vediamo se posso. Leccare questi Shy Guy. Perché esatto. Respawnano. Quindi vai. Ok. Mi sa che l'ho preso pelo pelo. Forse però. Perché sto rischiando. Vai. Ok. L'ho preso. Lì c'è la fine. Potrei anche lanciare. Un altro uovo. Sì. Perché no. Ok. È più sicuro gente. Ripeto. Non voglio perdere stelline. Anche se a breve dovrei trovare un altro punto di stelline. Là non c'è niente. Mi sarei aspettato delle stelline. E qua sotto. C'è la porta. Pre. Porta finale del boss. Insomma. Siamo arrivati al boss. Almeno credo. Vediamo un po'. Perché ricordo che sì. Ok. Perfetto. Siamo arrivati al boss. Qui. Oltre il checkpoint. E oltre a dei secchi. Che non servono praticamente a niente. Abbiamo la porta del boss. Perfetto. Possiamo adesso andare giù. E controllare con il binocolo. Binocolo vuol dire solamente una cosa. Intanto. Vediamo bene. Sotto. Non c'è niente. Ok. Esatto. Devo usare un giga uovo. Per poi buttarlo a destra. Per poi farlo salire su. Con la nuvola freccia. E poi. Dopo un bel giretto. E il fiore ottenuto. Possiamo andare dal boss. Perché il binocolo ha un timer? Lo possiamo prendere quante volte ci pare. Se non sbaglio il binocolo. Non so perché ci abbiano messo un timer. Forse per non far usare il giroscopio per troppo tempo. Ma a quel punto a che servono i livelli veicolo. Vabbè Shalla. Dov'è che devo andare? Devo andare qua sopra. Ovviamente non c'è un passaggio. Quindi posso utilizzare questa. C'è una spark laggiù. E adesso. Pam. Perfetto. E via. Nice. E non parlo delle tre one up. Perché vi ricordo che abbiamo troppe vite. Suggerimento. Questo boss richiede qualche uovo. Come indovinate un po'. Quindi ci conviene prendere delle uova. È un mini boss. E in effetti non richiede per niente delle uova. Ma è molto più facile con le uova. Ovviamente indovinate un po' chi è il mini boss. È Kamek. Sono pronto? Sono pronto. Andiamo. Ora basta scherzare. È il momento di darti addosso senza pietà. Oh no. Kamek è su una piattaforma che ha delle punte con un altro blocco che gira le punte sotto Kamek. Chissà com'è possibile affrontarlo. La cosa più bella è che non ha senso questa battaglia mini boss. La difficoltà sarebbe tecnicamente... Ok ce l'ho fatta. Perfetto. Evitare il contrattacco di Kamek. Ma basta stare in basso a sinistra o in basso a destra. E non può farvi nulla. Inoltre spawnano blocchi. Per farvi colpire i blocchi gialli e rossi. E con questo abbiamo praticamente finito. Ma perché continui a battermi? Giuro che la prossima volta te la faccio pagare cara. Certamente Kamek. Certamente. Chissà se questo è lo stesso identico Kamek che fa da balia a Bowser Jr. Perché se sì vuol dire che Kamek è tipo... Anziano. Povero Kamek. Adesso devo farmare solamente... Credo e spero 10. Ok. 10 medaglie. Dovrei aver fatto. Prima si è visto che sono entrato nel livello 1 del mondo 3. Il livello dei post adoni. Non fatelo. È molto più veloce farmare medaglie in questo livello. Ossia il labirinto porco spinoso. O porco spinato. Adesso non mi ricordo. Comunque abbiamo tutte le medaglie. Quindi possiamo andare a fare il livello veicolo di Yoshi. Porco spinoso comunque. La sfida della trivella. Sappiamo già come si usa. Ve lo dico. In questa sfida credo che sia leggermente difficile prendere tutto quanto. Proverò ovviamente a prendere quante più cose possibili. Però non siete costretti a prendere tutte le vite extra. Ve lo dico perché magari qualcuno lo può pensare. Visto che le ultime due volte l'ho fatto. Fammi prendere quella vita extra. Ok. Perfetto. La trivella è leggermente scomoda. Ho dovuto abbandonare una vita extra per prendere il timer. Che vi ho detto. Che vi ho detto. Voglio però andare qui. Bene. Non abbiamo fortunatamente monete rosse da prendere. Ok. L'abbiamo un'altra vita extra. Almeno quella la posso prendere. Questa idem. Vorrei provare a prenderla. Non importa. Non importa. Vai giù. Mi sa che abbiamo raggiunto la fine. No? Sì. Ok. Rompiamo questo. Perfetto. E dovrei avere abbastanza momentum per finire il livello. Ok. Sì. Lo so. Non perfetta. Ma vi ricordo che abbiamo così tante vite. Adesso abbiamo superato le 200 vite. Non serve fare questi livelli per farmare vite extra. Nella prossima parte di Yoshi's New Island concluderemo il mondo 4. Non ci manca molto eh. Non ci manca molto. See you next time. Baby.